Un'esortazione allo stupore. Questa è la rappresentazione del presepe vivente che anche quest'anno è stata inscenata al tramonto a Calvera. I vari momenti salienti del percorso sono stati ricordati tutti, dall'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria al duro viaggio di Maria e Giuseppe con le loro difficoltà nel trovare un posto per il loro bambino. Infine la grotta nella piazza dove tanti angioletti con le loro vocine hanno cantato davanti al bambinello e poi sono arrivati i pastori più semplici e umili e più svegli primi ad avere l'onore di adorare Gesù bambino e infine i magi con i loro doni. Il corteo è giunto in piazza dopo aver attraversato case di pastori, fabbri, contadini, intenti nelle faccende quotidiane, accompagnato dagli zampognari e ogni scena inoltre era seguita dalla lettura dei testi sacri a commento delle scene. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dalla parrocchia Maria Santissima del Carmine guidata dal parroco padre Stefano che ha visto la partecipazione di tutta la comunità. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dalla parrocchia Maria Santissima del Carmine guidata dal parrocchia Maria Santissima del Carmine guidata. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dalla parrocchia Maria Santissima del Carmine guidata. Grazie a tutti.